Creare e rafforzare una comune cultura della memoria. È stato questo l'obiettivo della Commissione di Storici Italo-Tedeschi che il 19 dicembre ha presentato alla Farnesina un rapporto sugli avvenimenti del Bienio 1943-45. All'evento sono intervenuti i professori co-presidenti della Commissione, il Ministro degli Esteri Giulio Terzi e il suo omologo tedesco Guido Vestervelle. La Commissione, composta da dieci membri, è nata a seguito del vertice italo-tedesco di Trieste del 2008 e ha realizzato in tre anni un approfondimento sul passato di guerra di due paesi e in particolare sugli internati militari italiani, vittime spesso dimenticate. Questi anni hanno lasciato feriti non ancora rimarginate che sono terreno fertili per stereotipi molto radicati nella percezione reciproca. Sono stereotipi che non si addicono assolutamente alla profondità e alla varietà dell'amicizia italo-tedesca. Il lavoro compiuto dalla Commissione è la prova della vitalità della collaborazione tra Italia e Germania in un momento in cui l'Europa è chiamata a riflettere sul proprio futuro. Soltanto raccontando il passato possiamo difendere l'avvenire, ha scritto Elie Wiesel. Le ricerche condotte hanno portato alla luce un materiale molto vasto, diarie e memorie, ma anche altra documentazione proveniente dagli archivi, dalle associazioni e dalle famiglie. Ma il lavoro svolto è stato totalmente ampio e approfondito da consentire l'apertura di un discorso sulla politica della memoria. La presentazione di questo rapporto non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza volto a rafforzare il dialogo italo-tedesco ed europeo su questi temi. La Commissione ha infatti formulato una serie di raccomandazioni e proposte su possibili future iniziative e strumenti concreti per proseguire questo complesso impegno. Concretamente Germania e Italia hanno l'intenzione di creare anche per gli internati militari un luogo della memoria. Il governo federale tedesco deplora profondamente le ingiustizie subite dagli internati militari. ci inchiniamo dinanzi alle vittime. La risposta storica, politica, al capitolo più buio della storia tedesca è l'Europa. L'Europa è la risposta di pace a secoli di guerre fratricide sul nostro continente. Vogliamo partire da quegli anni per definire azioni concrete, per mantenere questa memoria tra tutti quelli che hanno perso la vita e sofferto per quei fatti, ma anche per tenerla viva in tutti i cittadini dei nostri due paesi e dei cittadini europei. Per mostrare che da quelle tragedie i nostri paesi sono riusciti a uscire e che oggi Italia e Germania lavorano insieme per costruire quel futuro al quale si è richiamato il ministro Westerwelle.